Benvenuti in un nuovo audio riassunto. Questo tipo di contenuto non vuole in alcun modo sostituirsi all'opera originale e non è un audiolibro. Quello che ascolterete è un riassunto che ho preparato con molta cura e molto amore di ciò che è narrato nei libri capitolo per capitolo. Per motivi evidenti saranno saltate le descrizioni dei paesaggi e dei dialoghi, dai quali però prendo ampio spunto per raccontare al meglio la storia. Le immagini che accompagneranno la lettura sono un misto di fan art, foto dal film, dal cartone animato e disegni di Tolkien stesso. Non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere un pollice in su e di lasciare un commento. È importante per me e mi aiuta a migliorare questo tipo di contenuto e creare discussione sull'opera di Tolkien. Buona visione! Dopo il lieto incontro con gli elfi avvenuto la sera prima, Frodo, Sam e Pipino si svegliarono freschi ed arzilli. Il programma era di attraversare il fiume Brandivino ed arrivare a Bucburgo il prima possibile. Tuttavia Frodo era riluttante a rimanere nella sua nuova casa a Crifosso e voleva ripartire verso Gran Burrone senza sostarvi neanche una notte. Sam ribadì la sua intenzione di accompagnarlo, nonostante i possibili pericoli lungo il viaggio. Del resto aveva promesso a Gildor di non lasciarlo. L'incontro con gli elfi aveva lasciato in Sam un profondo cambiamento. Si sentiva diverso e gli pareva di vedere davanti a sé, lontano nell'oscurità, con la sensazione di avere qualcosa da fare prima della fine. Dibatterono sulla direzione migliore da intraprendere. Pipino suggerì di dirigersi verso Scorta, dove avrebbero potuto assaggiare la miglior birra del decumano est alla pertica d'oro. Ma Frodo dovette insistere di tagliare attraverso la campagna, anche per ridurre la possibilità di essere rintracciati dai cavalieri neri. Così, con gran rammarico di Pipino, si incamminarono attraverso la vegetazione rigogliosa, tra roveti e pantani. Attraversarono il sottobosco ingarbugliato e procedettero lenti al di sotto di una scarpata, quando intravidero all'improvviso un cavaliere al di sopra di essa. Si tuffarono tra i foltici spugli sulla riva del ruscello che avevano appena attraversato, e stettero immobili per un po', trattenendo il respiro. Ma non udirono nessun rumore di inseguimento. Il cavaliere, in effetti, non avrebbe rischiato la ripida discesa. La mattina era stata calda e difficile, ma iniziò a piovere. Il vento si calmò e iniziarono a scrosciare torrenti di pioggia. Intorno a mezzodì si ripararono sotto un grande olmo dal fogliame fitto, approfittando della sosta per ristorarsi. Appena la pioggia alentò, il loro animo era rinfrancato e si sentirono più allegri. Ma uno stridulo grido di un essere malvagio e solitario fu portato dal vento fino alle loro orecchie. Restarono come pietrificati e ritti all'ascolto, ed un nuovo gemito più lontano parve rispondere al primo. Non era un uccello e neanche una bestia, ma un richiamo o un segnale. I tre Hobbit erano terrorizzati. Non avevano mai udito delle voci del genere, disumane, e pensarono subito ai cavalieri neri. In quattro e quattro otto rifecero i fagotti e si rimisero in cammino. Uscirono dall'orlo della foresta e si avviarono attraverso i campi a passo spedito, sperando di aver lasciato i loro inseguitori alle loro spalle nella foresta. seguirono il bordo di un enorme campo di rape, giungendo di fronte ad un robusto cancello che Pipino riconobbe immediatamente. Erano all'ingresso della fattoria del vecchio Maggot. Frodo ne fu allarmato. Avrebbe preferito entrare nel covo di un drago piuttosto. Quando era bambino si recava spesso in quelle zone. Una volta fu sorpreso dal fattore a raccogliere i funghi dentro la sua proprietà. Ricevette tanti bei scapaccioni e fu inseguito dai suoi cani spaventosi e feroci, con la promessa di essere divorato da essi la prossima volta che venisse sorpreso a raccogliere i suoi funghi. Pipino sorrise ed assicurò che il vecchio Maggot era una gran brava persona e un buon amico di tutti i Brandy Book, anche se il terrore di tutti coloro che oltrepassano la sua proprietà. Del resto, gli Hobbit che vivono vicino alle frontiere della Contea sono costretti a stare sempre in guardia e allerta. Appena aprirono il cancello, si udì il richiamo del vecchio e videro tre cani corrergli incontro a tutta velocità, ringhiando e fremendo. Frodo sentì raggelare il sangue nelle vene e Sam si appiattì contro il muro. Apparve il padrone di casa che, allegramente, accolse Pipino, contento che non fosse nuovamente il tipo losco che gli aveva fatto visita pochi minuti prima. Richiamò i cani, con sommo sollievo di Frodo e Sam, ed accolse gli ospiti in casa, ansioso di raccontare dell'incontro precedente. Pipino presentò i suoi amici, ma al nome Baggins, il vecchio sussultò, lanciandogli un'occhiata penetrante. Frodo credette di essere stato riconosciuto e che qualche vecchia minaccia promessa stava per essere consumata. Ma il vecchio li fece accomodare in cucina, offrendo dell'ottima birra, facendo svanire il rimpianto per la mancata sosta alla pertica d'oro. Maggot confessò di aver riconosciuto quel giovane monello che si intrufolava nella sua proprietà anni addietro. Ma la cosa che lo aveva scosso era di aver sentito pronunciare il nome Baggins dallo sconosciuto che era venuto alla sua porta qualche minuto prima. raccontò che quel tipo avvolto in mantello e cappuccio chiese proprio di lui. Tutto losco e inquietante, come se non volesse essere riconosciuto. Persino i cani fuggirono con la coda tra le zampe. Il fattore gli spiegò che i Baggins stavano a Hobbyville, ma lo straniero era informato che Baggins invece stava venendo a Buchburg ed offrì dell'oro come ricompensa per delle informazioni. Così Maggot, offeso, lo cacciò via e quegli si defilò in groppa al suo destiero, infastidito e riluttante, emettendo una specie di sibilo inconcepibile. Il vecchio si mostrò lieto che Frodo fosse tornato a vivere nella terra di Buch e che avesse lasciato casa Baggins, della quale molte voci di tesori nascosti attiravano l'attenzione di malintenzionati a caccia di oro. In qualche modo le sue congetture erano acute e perspicaci, e non troppo lontane in effetti dalla realtà, anche se, parlando di Baggins, si riferiva più alla ricchezza e all'eccentricità di Bilbo. Frodo fu deliziato dalla cortesia e dalla disponibilità di Maggot, del quale ebbe scioccamente terrore per trent'anni. Furono invitati a restare per la cena, accettando di buon grado, oltretutto poiché Maggot si offrì di accompagnarli col carro fino al traghetto sul brandimino. E così, dopo un'allegra serata in compagnia del fattore e della sua famiglia, si misero in viaggio attraverso fili sottili di nebbia. Dopo appena cinque miglia, giunsero all'ingresso del viale che portava al fiume, e gli hobbit scesero dal carro. Neanche il tempo di salutarsi col vecchio Maggot, che udirono il calpestio di zoccoli in avvicinamento, forte e nitido attraverso l'aria nebbiosa. Si misero subito in allarme e si voltarono verso una figura scura e ammantata, che si faceva largo tra la nebbia. Una voce flebile chiese del signor Baggins. La luce illuminò il volto di Maryadoc Brandibook in sella al suo pony. I quattro hobbit furono sollevati dal lieto incontro e trassero un sospiro di sollievo, tra lo stupore di Mary, che in realtà era preoccupato semplicemente del ritardo di Frodo e compagnia, ed era sceso al fiume a cercarli. Maggot si congedò amichevolmente da tutti, consegnando a Frodo una cesta da parte della moglie, dalla quale veniva fuori un familiare profumo di funghi. Grazie a tutti.